Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Allora, siamo alla seconda lezione dei nostri parametri. Qui andremo a fare degli esercizi per iniziare ad imparare anche a fare dei salti all'interno delle nostre query. E andremo con questo esercizio, vedremo 2-3 sistemi per leggere il contenuto che sta in Excel e poi attraverso quel contenuto andremo ad applicare dei filtri sul nostro set di dati così l'utente può inserire dei parametri, noi li intercettiamo e li andiamo poi ad applicare all'interno di Power Query. Allora, andiamo nel nostro file di esempio che ho preparato. Eccolo qua, praticamente qui ho una tabellina che in questo caso io l'ho inserita in Excel però potrebbe essere un CSU, arrivare da una tabella di SQL, da una pagina web, eccetera. Quindi noi per lavorare comunque io l'ho creata in Excel. Ho aggiunto rispetto a quello che vedevamo nelle precedenti lezioni che è un po' sempre la stessa tabella il campo della settimana perché noi andremo ad operare su questo campo qua all'interno di Power Query. Quindi qui vedete c'è un filtro utente e a seconda del valore che inserisco qua cambia poi il mio risultato. Quindi importo questa, la filtro con questo valore qua e qui do in risposta il mio valore. Quindi se io qua metto 20 e poi vado qui e faccio il tasto destro, aggiorna, ecco che in risposta da Power Query io ho la settimana 20. Se qui ci scrivo 19, ecco che ho in risposta la settimana 19. Allora qui è il primo esempio, quindi passiamo un singolo valore a Power Query e poi otteniamo una risposta. Qui ad esempio faccio un'altra cosa, vado a prendere una lista di valori. E a seconda della lista di valori che metto qua, se premo adesso la 19 e la 21 perché qui c'era un... era stato cancellato il valore quindi ci metto anche la 20, vedete? Faccio tasto destro, aggiorna, ho 19, 20 e 21. Se sotto, essendo che questa è una tabella, vado adiacente, ci scrivo 22, la tabella si allunga. Quindi se io faccio tasto destro, aggiorna, 19, 20, 21 e 22. Quindi con la seconda opzione potremmo andare a passare più parametri definiti da una lista che è data dalla nostra tabella. Ovviamente io qua utilizzo una sola colonna, potete farlo anche con più colonne, non c'è nessun vincolo di farlo ma al fine del nostro esercizio ci basta. Ecco, un'altra cosa che vi consiglio di fare è inserire una convalida dati all'interno delle celle in cui dovrete operare voi oppure che dovranno operare gli utenti a cui date il file. Questo perché ad esempio qui l'utente potrebbe inserire un testo e quindi poi andare a buttare in errore il nostro Power Query piuttosto che inserire un numero di settimana che non esiste, magari inserisce 60 e non esiste. Difatti io qua l'ho già inserita, vedete, io metto 60 e mi esce un messaggio che non posso utilizzare questo valore. Come ho fatto a fare questo? Praticamente dal menu dati qui sulla destra avete il pulsantino di convalida dati, vedete, convalida dati. Io qua gli ho detto, guarda in questa cella qua mi puoi inserire solamente un numero intero e i numeri che puoi inserire sono tra il valore minimo che è 1 e il valore massimo che è 53. Così facendo faccio un'ottimizzazione a ciò che l'utente può fare all'interno delle celle che utilizzo come parametri all'interno di Power Query. Così fixo eventuali problemi che potrebbero nascere. Se poi siete bravi andate anche a bloccare la cella della colonna perché ovviamente quando io importo questa tabellina qua io mi importo questo nome colonna quindi accidentalmente l'utente potrebbe arrivare qua e cambiare il testo. Per fare questo bisognerebbe fare clic destro sulla cella, formato celle e qui andiamo a togliere bloccata, anzi cioè lo lasciamo bloccata. Invece su tutte le altre celle del nostro foglio di lavoro si basterebbe fare così formato celle e togliamo il bloccato in modo che siano tutte libere in modo da lasciare solo questa. E poi potete anche andare a mettere una protezione quindi dal menu file, informazioni, protezioni, foglio di lavoro e qui con un proteggio foglio corrente li mettete una password oppure lasciate anche bianca facendo ok ok, vedete a seconda di quello che mettete sotto potete poi andare a mettere una protezione così se uno poi qui scrive non ci riuscirà più e avete salvaguardato il vostro dato in input verso Power Query eventualmente se volete fare un approfondimento ulteriore sulla convalida dati perché non la conoscete o volete comunque approfondirla la lezione 11 del mio corso base di Excel appunto qui tratto la convalida dati e gli elenchi perché ad esempio da qui potete anche fare un elenco che va da 1.53 quindi compare un menu a tendina come questo e qui si può scegliere un elenco di valori che l'utente può andare a selezionare impedendogli anche di fare inserimenti differenti bene con questo chiudo allora facciamo tutto ex novo prendiamo questa tabella qua che è la nostra fonte dati la portiamo in Power Query quindi menu dati da tabella intervallo adesso un secondo che qui Power Query mi apre sempre tutte le cartelle quando entro ok me la porto nella nostra cartella dove facciamo l'esercizio eccola qua quindi lui cosa fa? origine, modifica tipo questa la correggo che è una data non è un data time e ho la mia tabellina pronta per essere lavorata cos'è che dobbiamo fare noi? noi dobbiamo lavorare sul campo settimana e sul campo settimana vogliamo applicare un filtro che arriva dal parametro che l'utente inserisce nel mio excel quindi senza andare ad utilizzare l'M che lo faremo solo alla fine andiamo a fare subito un passaggio quindi cliccheremo sul filtro e prendiamo un valore a caso e premiamo ok così noi ci creiamo il codice con tutto scritto cos'è che lui dice praticamente nel passaggio ho detto dalla tabella seleziona le righe partendo dal passaggio modifica tipo quindi partiamo da questo passaggio qua e per ogni riga del campo settimana filtra il valore 19 ok vedete qui ha filtrato il valore 19 visto quello che ha scritto qua noi cosa dobbiamo fare? dobbiamo semplicemente andare a cambiare il 19 con il nostro parametro che arriva da excel perfetto come facciamo a fare questo? quindi la prima parte va già benissimo così dobbiamo solo trovare un sistema di cambiare questo 19 qua perfetto adesso faccio chiude carica in alla tabella che abbiamo creato e faccio solo connessione così non me la crea da nessuna parte perfetto noi andiamo a recuperare la tabellina che abbiamo creato qua quindi la tabellina utente quindi anche qui in questo caso la prendiamo dati da intervallo utenti e da tabella intervallo così la importiamo in power query adesso anche qua ancora mi riapre tutte le cartelle ok eccolo qua quindi abbiamo la nostra tabella che ci siamo importati poco fa e qua c'è il filtro utente allora andiamo su origine e facciamo il drill down come abbiamo visto nella lezione del lead time e otteniamo il nostro valore come abbiamo visto nella lezione precedente ok il passaggio semplice che comunque noi adesso andiamo a vedere un'altra cosa è perfetto questa arriva da excel quindi andiamo qua potremo andare nel filtro il primo sistema che potete fare è appunto andare qua e usare la funzione che abbiamo visto nella lezione precedente quindi number.from apriamo si chiama filtro utente la query utente e chiudiamo la tonda ecco che filtra la 19 crea solo connessione se qui adesso io ci metto la 20 e poi torniamo a modificare la nostra query che abbiamo appena creato qui ok vedete che ha filtrato la 20 appunto perché il filtro è 20 quindi questa abbiamo riciclato una formula che abbiamo utilizzato nella lezione precedente però adesso andiamo un po' avanti andiamo un po' oltre iniziamo a guardare un po' l'M e capire come eliminare questa query in modo da fare tutto all'interno della singola tabella perché se avete anche uno scenario complesso magari avete 30-40 query è utile anche aggregare un po' le cose così andiamo anche a vedere come utilizzare le variabili e richiamare dei passaggi precedenti all'interno della stessa query quindi come si fa questa cosa qua io devo portarmi praticamente questi passaggi qua li devo mettere dentro qua e quando li ho messi dentro qua devo trovare un modo per richiamarli e non posso utilizzare la funzione number.from perché quando li importo qua si fa in un altro modo allora come facciamo andiamo nella nostra filtro utente andiamo nel menu visualizza editor avanzato perfetto cosa c'è qua lui mi dice che praticamente prendo i dati come origine nome passaggio primo passaggio è appunto origine e mi dice prendi i dati da questo foglio di lavoro dalla tabella che si chiama filtro utente e importa tutto il contenuto poi fai una virgola per fare un nuovo campo un nuovo passaggio scusate un nuovo passaggio e poi lui prende il nome della colonna che abbiamo definito e dice fai il drill down questa è l'operazione per fare il drill down perfetto quello che ci interessa è questa cosa qua questo è quello che noi dobbiamo portare di là quindi lo copiamo andiamo qui apriamo l'editor avanzato ci portiamo sotto al let e qui facciamo incolla abbiamo portato i due passaggi ok però non va bene perché vedete che qui me lo sottolinea in rosso perché nella prima query c'era un'origine in questa query c'era un'origine quindi non posso avere due passaggi che si chiamano lo stesso nome devono sempre essere uguali quindi ad esempio qua ci scrivo parametro utente poi qui ovviamente quando vado nel secondo passaggio vedete lui dice da che passaggio parto da origine però noi adesso l'abbiamo cambiato quindi abbiamo preso parametro utente lo copio e lo incollo qui così lui partirà da questo passaggio qua da qui altrimenti partirebbe a leggere da qua poi qui d'ha ancora sottolineato perché? perché per ogni passaggio va messa una virgola noi abbiamo importato questi due passaggi che non ce n'erano altri quindi anche qua dobbiamo aggiungere la virgola ok vedete che è sparito l'errore perfetto se io adesso gli do l'ok cosa succede? vediamo ecco che qua sulla sinistra mi ha creato i due passaggi vedete vado su parametro utente e c'è la mia tabellina che arriva da Excel poi c'è la navigazione che mi fa il drill down poi se vado su origine parto da un altro punto come se i primi due passaggi non esistessero perché appunto ricomincia con l'origine e il codice M che avevamo messo quindi va ad eseguire questa cosa qua che riparte da un nuovo set di dati perfetto allora noi adesso che cosa dobbiamo fare? praticamente facciamo uno zoom noi qui questa cosa qua non mi piace che è un po' lunga e c'è l'hashtag e le virgolette ci metto un nome è differente la chiamo selezione ok non serve l'hashtag e le virgolette perché nel passaggio di prima qui c'era uno spazio e quindi se c'è uno spazio bisogna per forza di cosa scrivere anche l'hashtag e le virgolette se io ci scrivo selezione niente numeri niente caratteri speciali niente spazi selezione ok posso lasciarlo anche senza l'hashtag le virgolette quindi il risultato del mio drill down che in questo caso se non ricordo male era 20 ma comunque adesso lo vediamo andrà dentro a selezione quindi il passaggio selezione si valorizzerà con quel valore quindi possiamo vederla come se fosse una variabile perfetto adesso andiamo qui dove c'era il nostro filtro manuale e adesso abbiamo messo la formula del number.from ci metto selezione ecco che quando lui andrà a leggere questo codice prima restituirà il valore di questa cosa qua quindi selezione si valorizzerà col parametro che è arrivato da excel e poi quando andrà a leggere qua lui capirà che deve prendere come filtro selezione che è qua su perfetto se io lì do l'ok ecco che su andando su filtri righe vedete c'è il 20 c'è la selezione quindi cosa abbiamo imparato con questa lezione adesso io ad esempio questa cosa qua la posso eliminare non mi serve più a niente perché l'ho inglobata all'interno della prima query questa cosa qua la potevamo fare anche con il lead time qui abbiamo fatto due parametri dinamici fuori e poi qui con il risultato abbiamo fatto la differenza dove andavamo a leggere queste query qua col number.from potevamo fare la stessa cosa andavamo qua ci prendevamo il codice m lo mettavamo nei passaggi qua valorizzavamo una variabile e poi al posto di fare questo formulone qua ok che magari può risultare anche difficile da leggere noi facevamo meno il nome della variabile che avevamo deciso diviso il nome dell'altra variabile che avevamo deciso così diventava più semplice ovviamente non ve l'ho fatto subito perché essendo un corso andiamo a vedere un po' tutti i sistemi che esistono per utilizzare i parametri per passare le informazioni e recuperarle dalla query stessa o da altre query ecco questo era il primo esempio che era un po' più complicato ma intanto abbiamo iniziato a guardare anche il codice m perfetto allora adesso andiamo a vedere il secondo esempio che è molto molto più semplice qui abbiamo sempre una tabellina quindi anche in questo caso andiamo in menu dati da tabella in intervallo così li importiamo in power query adesso io l'ho già fatto quindi non lo rifaccio adesso ve la mostro e praticamente ce l'abbiamo qua ok qui ho anche un'altra tabella che l'ho importata ok ho fatto un altro passaggio che è uguale a questo ma l'ho importata così ho il mio la mia tabella sorgente poi cosa ho fatto semplicemente questa è una tabellina che è qua io da qui gli ho detto semplicemente da modifica tipo ho creato un merge ho fatto un inner join qui dal menu che è sul menu home sono andato su merge di query ho fatto sulla linguetta merge di query e qui gli ho detto si inserisce un nuovo passaggio perfetto fatta questa cosa qua io ho appunto la mia tabella quindi la mia chiave è settimana perché in questo caso noi dobbiamo fare un filtro quindi il merge lo possiamo utilizzare perché riesce a parlarsi poi prendiamo la nostra tabellina che dobbiamo ammalizzare che è appunto questa la 14 e clicchiamo anche qua così questa deve essere in corrispondenza con questa se non sapete che cosa sono i merge sul corso base ci sono due lezioni sulla lezione 11 del corso base della Power BI di Excel spiego cosa sono i join e come funzionano quindi potete seguire questa lezione per capire cosa sono come si utilizzano i merge all'interno di Power Query c'è la lezione 12 quindi anche qui potete fare un approfondimento in autonomia se ne avete la necessità bene torniamo al nostro Power Query il nostro esercizio e qui ho fatto il join praticamente qui poi li metto appunto l'inner join così ottengo in risultato da questo passaggio solo il record dove la chiave della settimana corrisponde con la chiave della tabella vendita e corrisponde con la chiave che è sulla tabella 14 filtro utente elenco quindi se ci sono questi 4 valori verranno restituiti ok premo l'ok qui adesso crea il passaggio ma l'avevo già fatto ok e mi porta questa tabellina qua con i valori che merge ovviamente qui se io adesso ne cancello 2 così è più chiaro vado qui ok e ho appunto 19 eventi vedete poi non ho fatto altro che cancellare questa tabellina questa colonna qua con rimuovi colonne e ho la mia tabella sorgente filtrata dall'inner join quindi sono andato appunto sull'excel e ho il mio bel risultato questa cosa qua però non la potevamo utilizzare nel lead time che lì abbiamo usato delle formule il number.from oppure anche qui col codice m abbiamo fatto la variabile perché qui andiamo a filtrare un elenco attenzione anche che se non è 1,2,3 e filtrate un testo comunque su quello che abbiamo visto oggi attraverso il codice m potete fare la stessa identica operazione funziona lo stesso bene con questa lezione è tutto spero sia stata interessante se vi è piaciuta lasciate un like se avete domande o dubbi provate a scrivere nei commenti eventualmente se so vi rispondo se vi fa piacere condividete questo video nei vostri social e nella descrizione trovate anche il link per il download di questo file in modo che se volete potete fare esercizio bene con questo è tutto vi saluto e alla prossima lezione a presto ciao ciao